Hai tre superman! Oddio Batman! Ma guarda un po'! T'hai rotto, attento, attento, attento! Ciao a tutti da piccolino! Guardate cosa abbiamo qui! Un sacco di sorpresine! Oh, hai rotto pure il martello! Quante sorprese hai! Dai, vediamo cosa si trova lì! Le cose che non ti servono! Buttali qui nel contenitore! Molto! 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 Molto con la ciccola! Olè, mamma Pixel! Molto con la ciccola! Molto con la ciccola! Molto con la ciccola! Noi abbiamo Batman! Ma... che? Vienem! Molto con la ciccola! Ma che cosa bella! Guarda! Ma cerca un'altra cosa! Guarda! Lo metto Kinder! Guarda la macchina! Oh! Qua l'hai trovato! Che bella collezione! Kinder! 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 Andiamo! Oh! Molto con la ciccola! Guarda qua un altro Superman! Ehi! Oh! Hai tre Superman! Oddio Batman! Superman, ma guarda un po', questo chi è? Super Mario, guarda un po', Super Mario, il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa, si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga e molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo, guarda i due coccodrilli, ci sono due coccodrilli ed uno rango tango, due piccoli serpenti, un aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due locorni, la tua canzoncina preferita, guarda la puffetta, la puffetta, cos'altro c'è? Guarda il drago, che si mette sul dito così fa, io ce l'ho, panda, quello cos'è? Pufu panda Oddio! Squishy! La rotta, attento, attento, attento! Oh oh! Oh oh! Che c'è dentro? Boh? C'è qualcuno? C'è qualcuno? No, non c'è! Non c'è? E allora ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao!